Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, a chi è qui in sala, a chi segue da remoto, soprattutto un ringraziamento francamente di cuore, a Juan Carlo De Martini e a Adriano Fabris che sono qui con noi per affrontare un argomento cruciale, tecnologia, intelligenza artificiale e controllo democratico. L'abbiamo intitolato in questo modo, per capirsi sull'oggetto, queste frontiere dirompenti tecno-scientifici che si stanno aprendo e la possibilità o meno del controllo democratico. Questo è il punto della questione e abbiamo con noi, francamente, sono particolarmente contenti, oggi è un confronto con due persone particolarmente autorevoli nella materia di cui stiamo affrontando. Il professore Juan Carlo De Martini, prolettore del Politecnico di Torino e ordinario di Ingegneria e Informatica, ha infondato il centro NEX su Intra e Società per il Politecnico di Torino. Ogni volta che l'abbiamo invitato, oltre che è stato gentilissimo, perché ci parla sempre, sempre da remoto, però sempre, ne ho avuto sempre un contributo straordinario per la nostra discussione. Il professore Adiano Fabris, invece, è il professore di filosofia morale, cioè di Pisa, e devo dire, anche con lui, le discussioni che abbiamo avuto qui in presenza, sono sempre state, dal mio punto di vista, particolarmente feconde di riflessione. Quindi io sono veramente, io l'avevo anticipato, ho costruito la possibilità di avere un confronto in cui questi due punti di vista hanno la possibilità di misurarsi direttamente su questione tale rilevanza. Io vorrei evitare di aggiungere altro e diamo direttamente la parola ai nostri interlocutori, della parola a Presidente Juan Carlo De Martini per introdurre la discussione. Grazie ancora, sia a lei che a Fabris, per esempio, con noi. Sì, grazie molte, grazie per l'invito. Come ricordavo prima, non è la prima volta in presenza, però ormai effettivamente risale a diversi anni fa la mia precedente contributo qui alla Casa della Cultura. Quindi grazie molte. Il tema è un tema con l'intelligenza artificiale, del rapporto con la democrazia molto ampio. Io mi limiterò, quindi ovviamente non a dire solo alcune cose, perché una trattazione esaustiva richiederebbe molto più tempo. Alcuni punti fermi che mi sembra importante condividere con voi. Allora, il primo è di carattere generale, ovvero riguarda la tecnologia in generale. La tecnologia, per definizione, è un prodotto umano, è prodotta da specifiche forze umane e quindi dobbiamo resistere la tentazione, da una parte, di trattarla come fosse natura, come se fosse qualcosa che capita per forze al di fuori del nostro controllo, della nostra possibilità di influenzarne il corso. Che è una tentazione molto forte, perché comunque c'è anche una tradizione filosofica non trascurabile, che in qualche modo ha ritenuto e ritiene, qualcuno ancora lo pensa, ritiene che la tecnica sia qualcosa che ormai si autogoverna e segue delle proprie logiche. Io invece contrappongo, forse proprio perché sono un ingegnere, contrappongo una visione della tecnica come animata e promossa da interessi, tipicamente interessi economici, molto precisi, riconducibili sempre a specifiche forze. Parafrasando Federico Caffè, quando parlava dei mercati, si lamentava dicendo non esistono i mercati, esistono forze con nome, cognome e soprannome. Analogamente, quando parliamo di tecnologia, che sia lo smartphone che sto caricando lì di fianco perché se scarico la vita diventa complicata, che si parli di intelligenza artificiale, che si parli di qualunque cosa, si può ricostruire la rete di interessi e di forze, di capacità tecnico-scientifiche, di interessi economici, di capacità finanziarie, che hanno prodotto lo smartphone e qualunque altro artefatto. Quindi, da questo punto di vista, la tecnologia, visto che è un prodotto umano, dovrebbe, in linea di principio, potrebbe, in linea di principio, essere soggetta a discussioni collettive e a decisioni democratiche, esattamente come qualunque altra cosa. Così non è perché, soprattutto in questi ultimi 50 anni, la tecnologia, soprattutto quella cosiddetta innovativa, nel momento in cui uno usa la parola innovazione, sembra quasi invochi un eccezionalismo con l'intelligenza artificiale, poi questo capita in maniera strabordante. In questi ultimi 50 anni la tecnologia è stata profondamente depoliticizzata. Dico 50 anni perché, se andiamo indietro un pochino nella storia, fino anni 60, inizio anni 70, in quel frangente storico, c'è stata una presa di consapevolezza chiara da parte di molti tecnici, di molti ingegneri, negli Stati Uniti e altrove, del fatto che la tecnologia doveva essere, era politica, doveva essere politicizzata, doveva essere oggetto di riflessione democratica. In America la causa scatenante fu il coinvolgimento dei tecnici, dell'MIT, degli ingegneri in generale, nella guerra in Vietnam. Questo provocò una presa di conoscenza molto forte, che aveva poi delle ricadute, riviste, libri, iniziative di vario tipo. Però, come per tantissime altre cose, a partire dalla fine degli anni 70 in avanti, è stato quasi completamente spazzato via questa consapevolezza. Io parlo del mio settore, sono ingegnero informatico, e fare il confronto con quello che scrivevano molti ingegneri informatici, quelli che hanno sostanzialmente pensato, ideato internet e il personal computer, che ormai sono morti da poco, sono vicini alla fine della loro traiettoria. Ebbene, quella generazione lì scriveva determinate cose e progettava anche il personal computer e internet, basandosi su determinati principi, negli anni in cui ho studiato io, quindi anni 80, soprattutto anni 80, questo era già quasi completamente scomparso. Quindi la tecnologia è stato detto alla politica non occupartene. La tecnologia ci pensa a qualcun altro, in particolare attori economici. Da questo punto di vista, la traiettoria di una istituzione americana, come l'Office for Technology Assessment, quindi l'Ufficio per la Valutazione della Tecnologia, creato inizio anni 70, che produsse rapporti molto importanti a sostegno dell'attività del Parlamento americano, era un organo politico-tecnico, aveva un bordo con cinque senatori e cinque membri del congresso, e poi un apparato burocratico, tecnico, che produceva rapporti, analisi sull'energia nucleare, sugli insetticidi, sulle medicine e così via. Ecco, quell'istituzione fu chiusa, completamente chiusa, nel 1994, quando il congresso divenne interamente a guida repubblicana, sotto la guida di Newt Gingrich. E nella storia delle istituzioni americane, è rarissimo che un'agenzia venga completamente chiusa, tipicamente viene sottofinanziata, viene accorpata con qualcos'altro, invece nel 1994, l'Office of Technology Assessment viene completamente chiuso, per mandare anche un segnale politico. La tecnologia non va giudicata, non va elaborata, ci pensano le forze di mercato, il cosiddetto mercato. Quindi con questa premessa, quindi con questo modo di intendere la tecnologia, veniamo a parlare del digitale, specificamente del digitale. Ora qui, la prima cosa, la accennavamo prima con il collega Fabris, prima di iniziare l'incontro, la scelta dei nomi è estremamente importante. I nomi utilizzati per parlare del digitale in questi ultimi, almeno questi ultimi vent'anni, sono nomi che sono scelti non dai tecnici, sono scelti da qualcuno con una chiara sensibilità, in parte di marketing e in parte politica, politico-comunicativa, e sono nomi che vengono, sorgono dalla costa ovest degli Stati Uniti e poi creano, vengono, intorno a queste espressioni, adesso ne citerò alcuna, viene creata una vera e propria ondata mediatica che arriva dalla costa ovest, invade l'Occidente, l'Europa, e satura i media. Quindi sarebbe interessante anche sentire qualche esperto di comunicazione e vedere se hanno fatto degli studi quantitativi, perché la saturazione è impressionante, si comincia a parlare, facciamo un esempio di una decina di anni fa, cloud computing, il cloud, come si dice ancora adesso. Allora, pensate all'espressione, cloud computing vuol dire elaborazione con calcolatori nella nuvola, cloud della nuvola, non è un'espressione tecnica, perché di per sé non vuol dire niente, è una cosa suggestiva, le nuvole ci piacciono, sono leggere, danno una sensazione di immaterialità. Cloud computing intorno al 2011-2012 se ne comincia a parlare moltissimo, satura la comunicazione mediatica, satura l'interesse degli accademici, perché comunque noi siamo completamente succubi di questa stessa ondata mediatica, che molto spesso cavalchiamo, perché c'è un interesse a cavalcarla, perché su questa ondata mediatica suscita l'interesse delle aziende a cui si vogliono vendere prodotti, quindi è un'ondata di marketing, suscita l'interesse della politica, al quale si dice, ma come non fai nulla sul cloud, fai qualcosa per il cloud, lo Stato può mica rimanere indietro, e quindi anche noi, di rimando, cavalchiamo questa onda mediatica. Faccio alcuni esempi, cloud computing, smart city, la città smart, big data, blockchain, le auto autonome, il 5G, qualcuno se lo ricorda ancora il 5G, web 3.0, una delle cose più gracili, più inconsistenti, ma se ne è parlato, due anni fa se ne parlava moltissimo, lo stesso machine learning, e poi soprattutto intelligenza artificiale. Queste ondate si sovrappongono, le ondate precedenti, non è che scompaiono completamente, c'è ancora qualcuno, che parla di blockchain, una delle cose più inconsistenti, degli ultimi vent'anni, le auto a guida autonome, stanno avendo parecchi problemi, nel 2018, l'Economist, preannunciava, che nel giro dei sei mesi, l'avremmo vista per strada, sono passati sei anni, e hanno grosse difficoltà, il 5G, che sembrava, dovesse cambiare, chissà che cosa, in bene e in male, perché poi c'erano anche quelli che temevano che il 5G avrebbe prodotto danni clamorosi, nowhere to be seen, e quindi appunto intelligenza artificiale su cui dico qualcosa dopo. Quello che però vorrei dire, per concludere, per concludere questa riflessione sulle ondate mediatiche, sono delle ondate mediatiche caratterizzate da un'estrema enfasi, da iperboli, a volte anche negative, nel senso apocalittiche, però tipicamente invece enfatiche in senso positive, e allora da questo punto di vista, lo dico ai miei studenti, lo dico ogni volta che posso, sarebbe molto utile che avessimo tutti gli anticorpi, che quando arriva la prossima ondata mediatica, arriverà, perché adesso l'intelligenza artificiale, mi aspetto che tra un anno o due arriverà qualcos'altro, applicare un sano principio di precauzione o di sobria diffidenza di quello che volete voi, tipicamente badate che il contenuto tecnico c'è, quindi la cosa importante è filtrare questa panna di propaganda o di marketing per arrivare al cuore del dato tecnico che molto spesso c'è, con pochissime eccezioni, e per capire esattamente cosa c'è di nuovo, perché c'è l'intelligenza artificiale, molte di queste cose, quasi tutte, dico quasi tutte perché forse blockchain e anche web 3.0 di sostanza c'è molto poco, ma nelle altre cose ci sono degli aspetti tecnici delle innovazioni effettive interessanti, quindi limitarsi a quello per poi sobriamente valutare i pro, i contro e soprattutto valutare quella tecnologia essendo prodotta da forze umane se ci va bene che sia in quella forma lì, che sia messa in campo in quel modo, con quei tempi, perché tutte queste cose o anche addirittura se metterle in campo ha fatto, perché il se, il come, il quando, con quale velocità sono tutte decisioni che in linea di principio potremmo anche prendere democraticamente anziché lasciarle a qualcuno che tipicamente le fa per mere considerazioni di profitto. Intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale purtroppo la colpa è nostra, nel senso che l'espressione nasce con tra alcuni dei primi informatici statunitensi nel 1956 i quali dovendo chiedere alla Rockefeller Foundation l'equivalente di 150 mila euro di oggi, quindi non proprio pochissimo, vogliono farsi pagare i mesi estivi che in America non vengono pagati ai professori, vogliono farsi pagare un po' di soldi per fare un po' di workshop e invitare un po' di persone a 150 mila euro di oggi e nel 1956 scrivono queste poche paginette di supplica per chiedere denaro e si inventano intelligenze artificiale, dicono artificial intelligence, quindi devono sedurre i finanziatori potenziali della Rockefeller Foundation e promettono dicono se ci date questi soldi riusciremo a istruire le macchine che nel 1956 stiamo parlando ancora veramente in una fase abbastanza primitiva eroica dei computer, riusciremo a far fare queste macchine cose che tipicamente possono fare solo gli esseri umani come tradurre da una lingua all'altra all'epoca c'era un fortissimo interesse a tradurre automaticamente per esempio dal russo in inglese anche semplicemente la letteratura scientifica pubblicata soltanto in russo e quindi la colpa è nostra anche se ormai parliamo di due generazioni fa rispetto alla mia però ci ho detto che la colpa sia nostra oppure no che il termine sia vecchio di 70 anni oppure no ciò non toglie che l'espressione è un'espressione che se potessimo dovremmo abrogare perché la parola intelligenza corrompe il pensiero e la parola intelligenza che è una prerogativa umana messa in qualunque frase rende tutto quasi irresistibilmente confuso e suscita una quantità di pensiero magico veramente sorprendente sorprendente quando si parla di intelligenza artificiale ormai è difficilissimo contenere l'iperbole contenere l'incomprensione contenere le false aspettative o viceversa contenere aspettative apocalittiche delle macchine che prendono controllo e provocano la fine dell'umanità quindi se noi potessimo mi rendo conto che ormai è praticamente impossibile dicevamo prima dell'incontro dovremmo sempre dire la cosiddetta intelligenza artificiale però diventa tedioso o mettere l'intelligenza artificiale tra virgolette e io cerco di farlo praticamente sempre però pensate quanto sarebbe come cambierebbero le nostre discussioni se quando si parla di queste cose noi sostituissimo sistematicamente intelligenza artificiale macchine o macchina sono macchine sono macchine molto sofisticate che fanno cose mirabolanti con risultati adesso arriva un attimo il dato tecnico risultati sorprendenti rispetto a quello che si otteneva anche solo pochi anni fa ma sono macchine sono macchine a cui noi attribuiamo un significato siamo noi che vediamo l'intelligenza in quello che loro producono e se le chiamassimo macchine penso che tutte le nostre riflessioni e conversazioni risulterebbero più sobrie faremo scoppiare questa bolla di pensiero magico che circonda l'argomento intelligenza artificiale in cosa sta il dato tecnico allora il dato tecnico è che da almeno 40 anni a questa parte quindi diciamo da quando il microprocessore che è un po' il cuore del personal computer il cuore dello smartphone comincia a diffondersi quindi parliamo delle fine degli anni 70 inizio degli anni 80 quindi un circuito integrato grosso così che riesce a fare calcoli milioni e poi miliardi di calcoli al secondo quando comincia a diffondersi e continua a aumentare la sua capacità di calcolo in maniera esponenziale nella comunità degli scienziati e degli ingegneri a cui appartengo comincia a diventare attraente un modo di affrontare i problemi proprio definito tecnicamente di forza bruta fino a quel periodo lì quindi fino agli anni 80 cosa facevano gli studiosi io per esempio nasco come ricercatore nell'ambito della rappresentazione del segnale vocale per la telefonia si vuole rappresentare il segnale vocale con 1 e con 0 per la telefonia digitale che è quella che usiamo adesso tutti ormai da parecchi anni e cosa facevano i ricercatori di quando io ho cominciato a studiare l'argomento cerchiamo di fare un modello del sistema di produzione della voce quindi delle corde vocali del tratto della cavità orale e così via e poi cerchiamo di fare un modello matematico che simulasse la produzione della voce i risultati erano così funzioni chiave per alcune cose negli anni 80 la disponibilità di potenza di calcolo permette un approccio a forza bruta cioè con tantissimi dati e tantissimi calcoli adesso ve la sto semplificando in maniera molto rudimentale spero che non ci sia nessun collega in ascolto però con tanta potenza di calcolo e tanti dati li provo tante opzioni ne provo tante finché trovo quella tra virgolette migliore e mi ricordo perfettamente io ho lavorato in Texas Instruments all'inizio anni 90 e il capo del laboratorio diceva non vi preoccupate se è molto complicato perché tanto la potenza di calcolo aumenterà sempre di più se voi trovate un algoritmo che funziona bene che in questo momento è troppo complicato non importa tra si troverà il modo di semplificarlo tra 3-4 anni invece diventerà industrialmente fattibile quindi questo approccio a forza bruta si rivela sorprendentemente efficace quindi tutti i modelli che si facevano prima sempre più sofisticati per simulare la realtà umana dell'anatomia umana vengono messi da parte quasi completamente perché invece questo approccio di muscolare potremmo dire funzionava strabiliantemente bene allora questa stessa cosa questo approccio a forza bruta nell'ambito della cosiddetta intelligenza artificiale quindi per quel tipo di attività come il riconoscimento del parlato io adesso sto parlando e ci sono ormai degli algoritmi che potrebbero sottotitolare il video automaticamente con un grado di fedeltà piuttosto buono oggi dieci anni fa no allora il riconoscimento del parlato è una classicissima applicazione di intelligenza artificiale sono i militari all'inizio che finanziano tantissimo il riconoscimento del parlato perché il riconoscimento del parlato vuol dire che non devo avere uno stuolo di persone che ascoltano il microfono come si vede nei film anni 50 anni 60 ma posso avere dei calcolatori che ascoltano tutte le comunicazioni che voglio potenzialmente tutte le comunicazioni tutte o almeno le comunicazioni di alcune settori o classi di persone e riconoscere automaticamente ciò che viene detto quindi è chiaro che c'è un interesse dei servizi dei militari della polizia in generale molto grande per il riconoscimento del parlato ebbene il riconoscimento del parlato è una classica attività dove si sono fatti dei modelli dei modelli linguistici quindi si lavorava con i linguisti si lavorava con i filosofi e a un certo punto l'approccio a forza bruta che appunto si comincia a sviluppare entro gli anni 90 comincia a dare risultati progressivamente sempre migliori e fino al salto di qualità di questi ultimi dieci anni non di più questi ultimi dieci anni abbiamo avuto potenza di calcolo sempre superiore come vi dicevo prima sempre più dati a disposizione perché in questi ultimi vent'anni col web abbiamo sempre più registrazioni di parlato come quella che stiamo registrando in questo momento quindi sempre più dati sempre più potenza di calcolo e poi c'è il dato come dire più scientifico in senso stretto cioè algoritmi che sono in grado di elaborare questi dati questa mole enorme di dati progressivamente sempre più sofisticati ma badati in alcuni casi sono algoritmi inventati inizio anni 80 quindi non radicalmente nuovi che però vengono migliorati estesi anche grazie alla disponibilità di maggiore potenza di calcolo ebbene la combinazione di questi fattori potenza di calcolo sempre superiore sempre più dati a disposizione e miglioramenti delle tecniche utilizzate hanno improvvisamente prodotto un aumento delle prestazioni nel riconoscimento del parlato nel riconoscimento degli oggetti nella traduzione da una lingua all'altra miglioramenti che si provava ad avere da 50-60 anni e che improvvisamente grazie a questa combinazione di fattori improvvisamente vuol dire nell'arco di questi ultimi dieci anni abbiamo finalmente ottenuto e quindi quando si passa da un riconoscimento del parlato con un tasso di riconoscimento di 80% quindi 20 parole su 100 sono sbagliate se noi dovessimo metterci a correggere 20 parole su 100 quello che capitava fino a dieci anni fa era lasciamo perdere faccio io a mano poi 85 poi 90 95 quando superi una certa soglia dove le parole sbagliate sono una su 100 allora diventa effettivamente utile ed è quello che è successo in questi anni riconoscimento delle immagini non di tutte le immagini non in tutti i settori ma nel momento in cui non so un'industria farmaceutica che produce cinque tipi diversi di pillole e li butta tutte su un unico tasto trasportatore e il riconoscimento delle pillole diventa sopra un certo tasso di successo diventa improvvisamente effettivamente utile per quell'industria perché se riesco a riconoscere le pillole con un altissimo tasso di successo e posso convogliarle in cinque piste differenti e quindi risparmiare moltissimo potenzialmente molto quindi si comincia a parlare di intelligenza artificiale per la confluenza di questi sviluppi tecnici non in tutti gli ambiti però in un numero di ambiti importanti e anche su applicazioni oggettivamente molto utili o che colpiscono molto l'immaginazione pensiamo a GPT cioè GPT o ai analoghi sistemi linguistici che cominciano a produrre dei testi che sono effettivamente progressivamente sempre con meno errori sempre più convincenti e così via questo è qualcosa che fino a pochi anni fa era impensabile e per questo si comincia ricomincia a parlare di intelligenza artificiale vi ho detto che viene coniato nel 1956 da allora si parla di intelligenza artificiale a degli alti e bassi perché si buttano montagni gli americani specialmente i militari buttano montagni di denaro i risultati erano scarsi per cui poi smettevano di finanziare poi ricominciavano a finanziare questi alti e bassi ora siamo chiaramente al picco più alto di sempre qualcuno non a caso parla di una corsa a loro come quella del Klondike dell'ottocento in California il secondo motivo invece è strettamente legato a quello che vi dicevo all'inizio cioè le ondate mediatiche nel senso che prima di intelligenza artificiale si parlava di big data i grandi dati badate che si parlava di big data e c'erano già le tecniche di analisi di questi big data che adesso definiamo intelligenza artificiale però secondo i miei contatti negli Stati Uniti c'è stata una scelta deliberata di non parlare più di big data e di passare a parlare di intelligenza artificiale e la scelta è dovuta da una parte al fatto che big data aveva dei connotati considerati negativi nella comunicazione pubblica perché big data i grossi dati ricordava big business ricordava big government quindi ricordava quello che effettivamente è grandi presenze di grandi concentrazioni di potere e poi questo lo aggiungo io big data metteva al centro di tutti i dati che sono il vero cuore della questione passare invece a parlare di intelligenza artificiale aveva vantaggio che è un'espressione molto più seduttiva molto più vaga non c'è una sola definizione di intelligenza artificiale condivisa da tutti molto più vaga e sposta l'attenzione ai dati i dati come dire sono passati in secondo piano nella comunicazione mentre invece sono centrali quindi si comincia a parlare di intelligenza artificiale per questa combinazione di due fattori un effettivo miglioramento in alcuni settori delle prestazioni in alcuni casi strabiliante e badate sono perfettamente consapevole che queste tecniche possono dare dei benefici per l'umanità molto importanti scoperte di farmaci e svariate altre cose ma in questa sede ci stiamo concentrando in tante altre si parla già di questi aspetti positivi quindi in questa sede conteniamo l'attenzione sui aspetti critici visto anche le limitazioni di tempo bene concludo questo sviluppo dell'intelligenza artificiale può essere innanzitutto discusso apertamente può essere oggetto di una riflessione democratica può essere oggetto di politica attenzione che qui la scelta delle grandi imprese tecnologiche nel momento in cui passano a parlare da big data a intelligenza artificiale quasi immediatamente introducono il concetto di etica sono loro che lo introducono e poi il collega sono sicuro che ne parlerà e questa di nuovo è una scelta deliberata di dire intelligenza artificiale ci offre straordinari potenziali effetti positivi per l'umanità potenziali rischi questa è una questione etica e questa è stata una scelta deliberata per preventivamente bloccare una riflessione politica sull'intelligenza artificiale parliamo di etica è solo una questione etica parliamo con i filosofi morali non parliamo di tutto il resto tutto il resto che cos'è tutto il resto è in tanti temi che magari parliamo in un secondo giro rispondendo alle domande perché questa questi sviluppi di cosiddetta intelligenza artificiale in realtà stanno ponendo moltissime questioni altamente rilevanti dal punto di vista politico che sono ne cito qualcuno molto velocemente estrema concentrazione perché chi può usare questi chi può sviluppare e mettere in campo queste tecniche sono 4-5 attori parlo dell'occidente più qualcuno in Cina e basta quindi altissima concentrazione solo loro hanno la competenza tecnica risorse di calcolo risorse finanziarie per poter mettere in campo queste tecniche che al momento per esempio sono in perdita cioè GPT perde brucia denaro in grandissima quantità quindi un tema di concentrazione di potere un tema di concentrazione dei dati e quindi di potere il rischio che queste tecniche un rischio assai concreto finiscano con sostituirsi all'umano in decisioni o attività che invece andrebbero ancora riservate all'attività umana quindi l'utilizzo di queste tecniche per decidere che cura dare una persona se dare o meno benefici sociali se assumere la persona oppure no e così via un enorme impatto ambientale perché queste tecniche consumano moltissime risorse sia per addestramento sia poi per l'erogazione dei servizi e poi tema proprio squisitamente politico Sam Altman questo uno dei personaggi costruiti mediaticamente per diventare una delle facce di questa di questo fenomeno ha invocato ha auspicato l'investimento di trilioni di dollari per lo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale il prodotto interno nord dell'Italia è 1,5 trilioni se ben ricordo vado a memoria e quindi stiamo parlando di un enorme quantità di risorse per questa specifica applicazione e quindi un classico tema democratico è ma avendo bisogno di scuole di biblioteche di sanità di moltissime altre cose dobbiamo mettere trilioni di dollari per questo magari è anche giusto ma possiamo parlarne e discuterne democraticamente e quindi da questo punto di vista e concludo veramente l'intelligenza artificiale esattamente come qualunque altra cosa deve essere trattata politicamente oggettivamente laicamente per decidere se la vogliamo come la vogliamo quando la vogliamo grazie grazie professore grazie per l'estrema chiarezza di una rinnovazione adesso noi passiamo a un filosofo morale a il quale poi ci dirà giustamente di apparare con la politica ma insomma questo è come dire di fare le cose step by step step by step grazie Fabrice di cuore no no grazie a voi è sempre un piacere essere qui e interagire con voi allora no mi trovo lo dico subito enormemente in sintonia con il collega con Carlos e Martin perché ha toccato alcune cose importanti sulle quali vorrei concentrarmi inizialmente prima di svolgere in maniera pur breve il discorso che avevo preparato allora la prima cosa importante è che sì è vero in questi sviluppi tecnologici per la prima volta dopo tanto tempo è ritornata all'ordine del giorno una riflessione etica c'è anche il motivo per cui è ritornata che è stato detto chiaramente dalla professora Di Martini vale a dire parlare di etica significa anche mettere un pochino più sullo sfondo il discorso politico ma io complicherei un pochino la problematica perché oggi magari si parlasse di etica cosa vuol dire etica molto banalmente è la riflessione sui criteri e principi del nostro agire dei nostri comportamenti una riflessione che cerca di individuare questi criteri questi principi in maniera condivisa cioè di individuare criteri e principi condivisibili non esiste un'etica privata e perché dico questo perché questo è il motivo per cui è nata l'etica duemila e trecento e quattrocento anni fa e nasce in Grecia nasce per un episodio molto particolare c'era un signore che andava in giro ad Atene a porre delle domande scomode a rompere un po' le scatole ai suoi concittadini si chiamava Socrate come sapete ebbene questo signore è stato accusato di empietà e di corruzione della gioventù quindi due accuse che lo colpivano eticamente e religiosamente ebbene com'è andata a finire è andata a finire che nella democratica Atene e quindi poi tornerò al problema della democrazia e di che cosa vuol dire democrazia nella democratica Atene è stato sottoposto al giudizio dell'assemblea e l'assemblea ha creduto non a quello che diceva Socrate io dico la verità ci sono persone che possono testimoniare ma la maggioranza dell'assemblea ha creduto alla retorica dei suoi due accusatori Anito e Meleto e l'ha condannato e Socrate poi l'ha presa dura dice vabbè allora visto come avete condannato io accetto la condanna anzi rilancio se mi condannate fate le cose sul serio l'hanno condannata a morte c'era una nave al porto del Pireo che lo aspettava per portarlo all'esilio tutti credevano che sarebbe andato o no lui ha bevuto la cicuta lo scandalo di questa morte fa nascere la filosofia come etica perché perché il suo discepolo Platone dice ma insomma com'è possibile che un uomo giusto sia condannato ingiustamente com'è possibile che un uomo che dice la verità che cerca la verità sia invece vittima della retorica il problema è che dunque non è un discorso di parte quello che viene fatto perché se la democrazia diventa un discorso in cui c'è una parte più forte più convincente per vari motivi perché ha il controllo dei mezzi di comunicazione che è in grado di determinare certe idee o una certa mentalità se la democrazia è il luogo in cui questa parte più forte prende sopravvento sulla parte più debole allora siamo fritti allora non c'è più democrazia non possiamo più chiamarla democrazia invece appunto forse un altro mondo è possibile un'altra realtà è possibile quella in cui appunto si sappia quando si dice che cosa è verità che cosa è bene che cosa è bello che cosa è giusto che cosa è empio che cosa vuol dire corrompere la gioventù si sappia che cosa vuol dire e si possa verificare se poi questo avviene davvero magari non in questo mondo contingente ma in un altro mondo in cui questo è dato è assodato e a cui ci possiamo riferire insieme tutti quanti in maniera condivisa quando dobbiamo prendere le decisioni in questo mondo contingente è un'esigenza etica è un'esigenza di condivisione quella che viene appunto sollevata da Platone come risposta alla morte ingiusta di un uomo giusto questa è l'etica ebbene oggi abbiamo a che fare soprattutto con un'etichetta nei due sensi che ha già ben spiegato Juan Carlos etichetta vuol dire un'etica piccola 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 che magari riguarda soltanto i nostri comportamenti quotidiani le nostre scelte piccoline le cose che ci possano provocare emozioni o venire incontro a quelle che sono le nostre esigenze più immediate i nostri soddisfacimenti il nostro benessere individuale quindi hai voglia a parlare di politica se manca questo senso di comunità e dall'altra parte l'etica è piccola 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 perché appunto è un'etichetta perché è diventata un label un marchio si parla di etica ma andate al supermercato andate all'esse lunga è come il marchio bio si compra qualche cosa perché è buono è bello che sia bio si prende qualche cosa perché è buono è bello perché è etico ripeto in questo modo si trascina l'etica nel sostenere una parte non tutto quanto ma magari si ponesse come dicevo prima una questione specificamente etica in maniera seria e adesso vi dico che cosa per me vuol dire quando si ha di fronte un discorso relativo alla cosiddetta intelligenza artificiale fare un discorso etico è una cosa un pochino più complicata spero avete un attimo di pazienza ma oggi non si affronta in questo modo la problematica si affronta soprattutto attraverso una serie di codici regole norme allora io sto lavorando da alcuni anni su queste tematiche sull'etica delle tecnologie e attualmente sono dentro un grosso progetto sono co PI corresponsabile di un progetto trasversale sull'etica deontologia dell'intelligenza artificiale all'interno del progetto FAIR 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 se volete avere qualche indicazione guardate appunto il sito della fondazione FAIR un progetto che raccoglie una dozzina di enti di ricerca di una università italiana finanziato dal PNRR in cui ci sono soprattutto informatici ingegneri eccetera ma ovviamente non mancano gli eticisti devo dire mi fa piacere noi tra i filosofi siamo in questo momento i più gettonati e quindi la cosa non può che farmi piacere guardo un po' dall'alto in basso i colleghi teoretici gli storici della filosofia perché chiamano solo noi non non loro però appunto chiamano solo noi ma poi si rivolgono ai giuristi perché perché si ritiene questa è un'altra cosa divertente oggi che le domande dell'etica possano avere risposte attraverso regole giuridiche capite che sono due cose diverse soprattutto per un motivo semplice le legal issues le questioni di carattere legale di regole eccetera certamente possono essere individuate possono essere normate ma poi devono essere messe in pratica e come secondo la legislazione di solito vengono messe in pratica secondo come è concepita attualmente la legislazione vengono messe in pratica le legislazioni sono nazionali i problemi tecnologici i problemi dell'intelligenza artificiale i problemi degli sviluppi hanno una valenza globale e quindi si riterrebbe di dover dare risposte parziali a questioni globali ecco perché l'etica serve perché come vi ho appena detto ricordiamoci di Socrate l'etica individua criteri e principi condivisi universali o tendenzialmente tali ai problemi che ha di fronte mentre la deontologia mentre la documentazione che abbiamo che possiamo elaborare non può che riguardare determinate categorie di persone all'interno di questo progetto di cui vi parlavo il primo anno è stato dedicato ad una comparazione dei codici di regolamentazione dell'intelligenza artificiale elaborati da stati comunità statuali gruppi di professionisti comunità di professionisti ingegneri la società americana di ingegneria elettronica famosa così come altre società non siamo stati gli unici a farlo è un lavoro che è stato fatto da molti ne abbiamo analizzati 143 ma ce ne sono molti di più se vi interessa c'è quello dell'Oman c'è quello dell'Algeria c'è quello del Messico tanto per dire c'è il famosissimo AI Act europeo che forse dopo anni di elaborazione forse ad aprile verrà definitivamente di triloghi di discussioni varie eccetera forse ad aprile verrà definitivamente approvato dalla comunità europea dal Parlamento europeo salvo poi essere demandato ai vari stati dell'Europa per una messa a concreto per una applicazione nelle legislazioni dei vari stati nel frattempo cosa è successo è esploso il fenomeno Cagpt e intanto si aspettava che ancora si discutesse nella maniera più adeguata la questione dell'intelligenza artificiale della sua normazione con i criteri di due anni fa e poi infatti si è andata a leggere l'ultima versione che è stata rilasciata pochi giorni fa che è quella che poi verrà sottoposta al Parlamento europeo vedete che la questione della dell'LLM insomma dell'angle large model cioè Cagpt diventa qualche cosa che sta dentro l'AI act come un fungo che viene fuori sostanzialmente in mezzo ad altre problematiche ma perché non funziona l'approccio deontologico perché poi deve essere applicato perché di fronte alle trasgressioni ci devono essere delle sanzioni e chi le dà queste sanzioni? E poi si riesce davvero a darli in maniera efficace? E poi ancora andiamo a vedere il codice deontologico che c'è che riguarda l'applicazione dei criteri dell'intelligenza artificiale in Cina faccio un esempio a caso naturalmente sì esiste un meraviglioso codice deontologico che parla di trasparenza che parla di rispetto che parla di adeguata gestione dei dati rispetto delle persone eccetera eccetera ma poi viene effettivamente applicato in questo stesso modo? Ecco allora ecco perché non si possono dare risposte giuridiche a domande etiche le risposte giuridiche sono sempre risposte che rimandano ad un contesto legislativo particolare o normativo particolare le risposte etiche riguardano l'essere umano in quanto tale allora se riguardano l'essere umano in quanto tale bene come si può sviluppare un'etica degli AI dell'intelligenza artificiale o della cosiddetta intelligenza artificiale se sono tanti i significati di intelligenza artificiale i modi sono altrettanti i modi in cui criteri e principi relativi a questa dimensione che Juan Carlos ha chiaramente sviluppato e ricostruito sono altrettanti sono i modi in cui noi possiamo elaborare una serie di indicazioni per i nostri comportamenti tre punti anzitutto e poi mi prenderò cinque minuti per il discorso della democrazia tre modi in cui noi possiamo elaborare un'etica cioè una indicazione di criteri di principi di comportamento rispetto a questa problematica primo modo questa è la novità non siamo più soltanto noi esseri umani ad agire e ad agire con un certo grado di autonomia con un certo grado di autonomia esistono anche altri agenti agenti artificiali che altrettanto possono agire con un certo grado di autonomia tanto che alcuni studiosi già vent'anni fa hanno parlato di agenti artificiali morali questa è per la storia dell'etica una vera e propria rivoluzione perché da Aristotele fino a pochi anni fa si riteneva che soltanto gli esseri umani potessero agire con un certo grado di autonomia i filosofi ricorderanno Kant l'autonomia morale dentro di noi eccetera adesso ci sono altri soggetti che hanno un certo grado di autonomia che sono soggetti artificiali questo comporta una serie di conseguenze sempre per quanto riguarda il primo aspetto come possiamo programmare e poi in qualche modo prevedere le azioni l'agire di questi dispositivi dotati di un certo grado di autonomia se nei programmi ci sono pregiudizi presupposti cosiddetti bias se questi dispositivi hanno un certo grado di autonomia anche nella misura in cui noi li possiamo programmare cioè sono in grado di imparare nella interazione con l'ambiente pensate al robottino tagliaerba che siamo in grado di pensare fin dall'inizio di anticipare di controllare fin dall'inizio i suoi movimenti no perché se incontra un ostacolo torna indietro e andrà a destra o a sinistra ma non siamo in grado di saperlo il nostro aspirapolvere il robot aspirapolvere per continuare a fare esempi stupidini allora questi sono una prima serie di problemi vale a dire quali sono i criteri principi etici che il programmatore deve inserire e poi rispetto all'attività all'agire di questi dispositivi non si può mettere in qualche modo un freno di modo che in certe situazioni non è che virgolette decide il programma o il dispositivo ma rimanda si ferma chiede l'intervento dell'essere umano in termini tecnico learning to defer learning to reject tutto questo però deve essere inserito dal programmatore tutto questo deve essere programmato in questo caso primo primo modo di sviluppare un'etica dell'intelligenza artificiale io parlo di una etica nell'intelligenza artificiale cioè nei programmi dell'intelligenza artificiale in cui l'essere umano il programmatore è a sua volta formato per diciamo inserire ottenere presente criteri principi etici in questa sua attività ma noi non siamo programmatori sì magari un po' smanacciamo noi siamo degli utilizzatori noi viviamo in un'epoca in cui ormai lo sappiamo dobbiamo interagire con questi dispositivi con queste specifiche forme di azione e dobbiamo cercare di capire che cosa tutto questo comporta dobbiamo soprattutto cercare di evitare quella che è una cosa molto importante che ha detto Juan Carlos la tendenza all'antropomorfizzazione di cui noi carichiamo di aspetti con cui noi carichiamo di aspetti umani questi programmi questi dispositivi questa è una cosa specificamente umana faccio sempre l'esempio che faccio con i miei studenti che cosa ci vedete qui ditelo eh vabbè lei non vede ma qualcuno vede qualcosa ecco la signora ha detto la cosa giusta una faccina mentre invece no sono tre righe e poi sotto una curva analizziamolo tre righe e una curva ma noi interpretiamo vediamo una faccina ha detto prima Juan Carlos siamo noi che diamo il significato e appunto per questo siamo noi che antropomorfizziamo io lo chiamo l'effetto Disney siamo tutti abituati a topolino paperino mini eccetera no Disney ci ha fatto i soldi con questa storia dell'antropomorfizzazione di topi papere cani gatti eccetera solo che con l'intelligence artificiale succede un'altra cosa succede che sono talmente performanti questi dispositivi e questi programmi che alla fine li riteniamo migliori di noi e quindi se all'inizio sembra che sono loro fatti a immagine e somiglianza dell'essere umano topolino paperino che si comporta col berretto con il vestito eccetera eccetera oppure appunto determinati dispositivi o programmi che funzionano in qualche modo uniformandosi all'essere umano poi avviene il rovesciamento siamo noi che ci dobbiamo adattare ai dispositivi siamo noi che consideriamo i dispositivi come un modello io chiamo la riflessione sulla relazione questo è il punto tra essere umano e ambito di intelligenza artificiale etica dell'intelligenza artificiale cioè come interagiamo con questi soggetti che in qualche modo agiscono moralmente perché hanno un certo grado di autonomia e poi terza riflessione appunto qualche cosa che rimanda ad una dimensione più comunitaria politica e qui entra il discorso della democrazia vale a dire se l'etica ha a che fare come dicevo con principi e criteri condivisi con principi e criteri che possiamo che riguardano l'essere umano in quanto tale non l'essere umano in quanto determinato localmente geograficamente eccetera ma l'essere umano in quanto tale allora dobbiamo davvero individuare una serie di criteri di principi condivisibili universali nel progetto che di cui vi parlavo prima proprio attraverso questa analisi dei codici abbiamo fatto un lavoro bottom up cioè dal basso dall'analisi di questi codici per poi vedere se c'erano dei valori condivisi e li abbiamo trovati sono quelli appunto della trasparenza del rispetto del rispetto della privacy del fatto che non devono danneggiare l'azione di questi dispositivi ma anche devono in qualche modo aiutare a produrre del bene per l'essere umano questi si ritrovano un po' dappertutto e questa dovrebbe essere la base poi anche di un discorso di convivenza ci ho ancora cinque minuti? la base di un discorso di convivenza che effettivamente possa essere utile da un punto di vista etico perché è l'etica che garantisce che ci possa essere una condivisione di criteri e di principi in cui gli esseri umani pur tenendo conto delle diverse culture possono in qualche modo parlarsi possono in qualche modo agire senza ricadere nella guerra di tutti contro tutti senza ricadere nel sopravvento di una maggioranza nei confronti di una minoranza ecco ebbene nella situazione che abbiamo di fronte quello che avviene è proprio il contrario i dispositivi i programmi di intelligenza artificiale sono usati invece esattamente per lo scopo opposto per far sì che solo una parte che ha il potere che ha la forza economica che ha i soldi per fare gli investimenti adeguati prenda il sopravvento ecco ancora perché chi si riempie la bocca del termine etica è quantomeno insomma da condannare perché ripeto l'etica è tutt'altro fa qualcosa di altro nasce per fare qualche cosa di altro qual è il problema che noi qual è la questione che noi dobbiamo affrontare qual è il problema che dobbiamo risolvere qual è la parola forte che noi dobbiamo mettere in campo per far sì che la democrazia di cui parliamo della democrazia che è propria della della nostra comunità che regolamenta la nostra comunità che è come diceva Churchill quel sistema che insomma è davvero il peggiore possibile peccato che gli altri sistemi sono ancora peggio qual è la parola forte bene sono un vecchio filosofo e quindi certe parole le uso ancora la parola forte è la parola verità quello che è a rischio oggi quello che è utilizzato quello che è diciamo travisato cambio microfono grazie quello che è travisato oggi è proprio il discorso che riguarda il vero il controllo in un contesto democratico ha a che fare con il problema della verità che cos'è verità la bella bella domanda la domanda di Pilato eccetera lo uso in un termine in un senso anche qui molto rozzo molto banale riguardo al concetto che comunque se volete poi approfondiamo intendo con il termine verità la disponibilità al confronto con ciò che riguarda la nostra esperienza concreta con il reale intendo verità come il tentativo di stabilire a partire da questo confronto con il reale relazioni condivise argomentate giustificate mi spiego meglio con un esempio di comunicazione se io dico questo tavolo è nero penso che chiunque di voi sia qui presente chiunque anche è a distanza e possa vedere inquadrato questo tavolo anche a distanza possa condividere questo mio giudizio e pertanto ritenerlo vero certo c'ha un bordo color beige certo sotto una certa luce non sembra poi così nero ma c'ha una determinata sfumatura però nel discorso diciamo normale comune secondo sano buon senso possiamo ritrovarci salvo poi partire da questo giudizio condiviso per fare una serie di opportuni approfondimenti qual è lo schema di questo discorso io parlo a voi di qualche cosa e voi verificate quello che io dico a partire da qualche cosa è una specie di triangolo con un vertice in basso il vertice in basso su cui noi stiamo convergendo è il discorso di verità ok funziona così normalmente nel discorso pubblico nel discorso pubblicitario nel marketing politico che è impostato secondo la logica della pubblicità nel discorso anche mediato da dispositivi programmi di intelligenza artificiale no quello che funziona è il rapporto tra di noi un rapporto orizzontale che non ha la profondità della verifica a me interessa soltanto convincere voi la cosa importante è che voi ascoltiate me e che magari proviate qualche emozione o veniate persuasi e convinti da quello che io sto dicendo indipendentemente da una verifica anche perché in molti casi la verifica è impossibile ecco il problema dell'utilizzo di bot chatbot modalità comunicative contenuti comunicativi che sono ormai offerti da noi in overdose è dato proprio da questa situazione di overdose comunicativa all'interno di un rapporto orizzontale sto parlando delle cosiddette fake news ormai sono tante e tali che non siamo in grado di fermarci e di riconoscere la verità o la falsità passaggio successivo siamo addirittura convinti che questo riconoscimento non è importante non va fatta la verifica perché l'unica cosa importante è la propria opinione è la propria capacità di esprimere liberamente tra virgolette la propria opinione e noi siamo liberi perché siamo in grado di dire che la terra è piatta o che oggi mi sento male oppure di ti fare outing per questa o quella cosa e sono libero per questo cioè di fare un discorso privato personale la nostra democrazia si è trasformata da discorso comune condiviso sulle cose in un discorso in cui ciascuno ha la libertà di esprimere la propria posizione senza trovare una sintesi senza trovare un terreno comune senza trovare un'intesa senza costruire nulla facendosi ma in modo che certo tu puoi dirmi sicuramente quella è la tua posizione opinione eccetera io la registro e poi non me ne frega niente questo è il quadro capite che a partire da qui tutti quanti siamo sui social naturalmente no ecco la struttura dei social il modo di pensare dei social ha portato tra le altre cose anche all'emergere di questa mentalità una democrazia fondata su questo e c'è stato chi soprattutto in Italia ha fondato la democrazia o ha ritenuto di fondare la democrazia su questo è qualche cosa che non ha nulla a che fare con la democrazia come peraltro poi si è visto ecco cosa succede chiudo non siamo più nell'epoca dei social sì lo siamo in parte ancora ma cosa succede di tutto questo cioè di questa guerra delle opinioni di questo dimenticare i contenuti a favore del mezzo dimenticare il messaggio a favore del mezzo nel momento in cui irrompe l'intelligenza artificiale in questo scenario sì va bene oddio cosa succederà ci sarà ovviamente la manipolazione punto tutto vero tutto importante ma il punto reale è ancora più profondo più dirompente cosa fa l'intelligenza artificiale cosa ci offrono i programmi e i dispositivi di intelligenza artificiale ci ha detto Juan Carlos prima simulano simulano e siamo noi che crediamo o no a questa simulazione c'è un collega che ha scritto un interessante libro intitolato macchine ingannevoli e siamo noi che crediamo all'inganno oppure no simulano cioè noi che cosa siamo indotti a fare a scambiare simulazione con identificazione siamo noi che riteniamo e quando succede questo quando cioè scambiamo la simulazione l'intelligenza artificiale i programmi di intelligenza artificiale agiscono in un certo modo secondo determinate procedure come se fossero umani l'intelligenza artificiale è artificiale e si sviluppa avendo determinati risultati come quelli umani poi magari nel dibattito torneremo sul test di Turing non voglio complicare la cosa il problema è che questo come se non è la stessa cosa di uguale a e allora e allora questo è il vero problema per la democrazia e concludo davvero cioè non c'è soltanto il fatto che questi sistemi di intelligenza artificiale potenziano enormemente le capacità di rifondere notizie false immagini discorsi fasulli il palazzone nel centro di Mosca in cui viene fatta tutta un'attività sistematica di disinformazione e via dicendo in passato i discorsi delle elezioni politiche americane Cambridge Analytica l'utilizzo dei nostri dati che stupidamente abbiamo concesso gratis eccetera non c'è soltanto questo il problema vero più di fondo è che l'intelligenza artificiale è strutturalmente qualcosa che è finalizzato a simulare e dunque a ingannare e noi altrettanto strutturalmente appunto perché interpretiamo antropomorficamente siamo disposti a lasciarci ingannare il risultato di tutto ciò è il pericolo di una sostituzione non di un affiancamento dell'umano da parte dell'artificiale questo è il vero pericolo della democrazia e questo è il vero problema che è una democrazia matura se volesse garantirsi un futuro dovrebbe oggi affrontare grazie l'ultima parte dell'intervento di Fabris è lì da meditare dovremmo meditare da parecchio adesso ma comunque do la parola a voi terremoto in presenza vediamo di prego prima non si sente niente c'è qualcosa Maurizio adesso si funziona no mettendo insieme le due relazioni sono arrivata alla conclusione sostanziale che la tecnologia è banale che la tecnologia non è cioè è un prodotto umano e questo mi sembra che sia fondamentale perché diciamo il fantasma che ci agita tutti è l'idea che a un certo punto questa intelligenza artificiale come si dice possa prendere il sopravvento su di noi e quindi agire come una forza indipendente da noi è questo che descrivono film di fantascienza o che allora mi chiedo se non ci sia anche un bisogno dei soggetti umani di pensare a qualche cosa più forte di loro a qualche cosa che li domina a qualche cosa che li costringe ad agire in un determinato modo e accanto a questo poi mi chiedevo anche se non sia una questione anche di dare nome alle cose cioè qual è il nome che noi diamo ad esempio l'intelligenza artificiale come diceva prima il professor De Martini beh da problema a problema quindi va bene no no andiamo un attimo ecco qui grazie mi avete la vostra presentazione ma rincorato io quando sono uscito dalla università allora ci chiamavamo cibernetici quindi cibernetici adesso quando le dico a qualche giovane rimane lì con la bocca aperta perché a parte le mie figlie che vedevano UFO non hanno più questo questa volevo fare però e quindi il fatto che quello che viene io mi si rizzavo nei capelli adesso c'era un po' meno quando sin da allora quando sentivo parlare di intelligenza artificiale perché per me intelligenza ha un altro valore rispetto non può essere artificiale a parte questa considerazione quello che del professore che parlava che alla fine dobbiamo cercare la verità ma io appunto sto dicendo con mia esperienza tutti questi sistemi sono prodotti da persone da umani i quali decidono quali informazioni quali dati immagazzinare come selezionare e quello far ti vedere ti vogliono far vedere o decidono quindi a livello di ricerca della verità di questo sistema la mia domanda lei vede una prospettiva di arrivare a una fine grazie grazie prego io in realtà volevo visto che si parlava di confrontarsi con il concreto e si è citato chat GBT volevo giusto un commento su su le dimissioni quando ci sono state da parte del CEO vabbè giusto per portarci tutti su tutti a bordo dietro chat GBT aveva qualcosa di no profit a un certo punto si è divisa è diventata una società profit ma nel consiglio di amministrazione di chat GBT è rimasta come tutela come sistema di garanzia proprio i consiglieri di amministrazione della società no profit che a un certo punto perché Sam non rispettava diciamo determinati requisiti di processo che sono un po' quelle regole dice se a me è stato in qualche modo si dice messo davanti un po' l'interesse individuale cioè dobbiamo andare in commercio piuttosto che la sicurezza di che cosa stavamo mettendo in commercio è stato licenziato i dipendenti rivolta 700 dipendenti di missioni one shot e questo ha fatto sì che in qualche modo il potere popolare diciamo così riportasse in auge il CEO il CEO dimesso però mi sembra che poi alla fine ci sia una sconfitta ovvero l'interesse individuale che vince incannato cioè il tema che non ci vedo niente di etico perché poi la verità è che se mettiamo di fronte l'interesse individuale questi cercavano credo la società no profit credo che fosse a garanzia di tutti invece mi sembra una grossa sconfitta per tutti ecco la morte ingiusta di un uomo giusto ecco grazie altre osservazioni prego sì uno conferma un po' di quello che l'ha detto il professor De Martini cioè che l'intelligenza artificiale altro non è che un'etichetta a un modo di sintesi in un'operazione di marketing diciamo lo confermo perché io nella mia vita lavorativa io vendo sistemi di tutto ciò che serve ad automatizzare le aziende io lo vedo come un modo di presentare dei software evoluti ma in realtà se devono vendere qualcosa che riguarda tutti i software non c'è dentro l'etichetta dell'intelligenza artificiale non si vende più questo è un dato di fatto concreto addirittura un'azienda ha presentato il sistema per esempio per automatizzare certi processi all'interno di una conferenza come questa dove addirittura il pubblico ha un'app che pone delle domande e poi lo può anche utilizzare successivamente e il sistema ha automatizzato tutto memorizzato tutta una serie di risposte di acquisiti che il docente ha ipotizzato a priori cioè cose di questo genere benissimo saremo sostituiti questa stravagante forza è vero posso poi rappresenterò a te questo è interessante ma devo sconcertare 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 come dire allora io beh ho colto diciamo alcune suggestioni vabbè nel senso che qui stiamo parlando di come diceva Habermas o qualcun altro diciamo la colonizzazione del mondo della vita da parte dell'economia da parte cioè l'agire strategico che diciamo è proponderante rispetto all'etica del discorso all'agire comunicativo quindi vabbè poi il discorso della condivisione della condivisione mi viene in mente c'è Rawls che dove che utilizza il concetto di ragionevolezza a fronte del concetto di ragione cioè la ragione condivisa come dire il nostro concetto di ragionevolezza quindi attraverso il discorso attraverso vabbè quindi non so che dire il problema veramente è quello della democrazia cioè permettere consentire diciamo alla gente alle persone di attraverso una pratica del discorso puntando alla più che la verità alla veriticità cioè all'onesto partecipare al dialogo pensando di dire una verità che possa essere condivisa dimostrata eccetera quindi quello che Habermas parlava di verivicità anziché di verità perché la verità può anche essere una verità diciamo di potenza dogmatica quindi sono tante le problematiche che ci investono quindi spazio per la riflessione spazio per il dialogo e la speranza di arrivare vuol dire mi viene in mente un pochino quello che Alberto Eco quando parlava delle divisioni fra apocalittici e integrati quindi senza demonizzare diciamo la tecnologia ma ovviamente un uso accorto e un uso condiviso e un uso intelligentico che parla di senso speciale vediamo altre domande prego io volevo fare una domanda un po' diciamo così tecnica nel momento in cui l'autoprogrammazione cioè si insegna l'intelligenza artificiale alla macchina di autoprogrammarsi in qualche maniera come si fa a controllare questa scatola nera come questa come si fa questa etica che potrebbe essere insegnata diciamo ai programmatori che possono ridurre i bias eccetera a far sì che questo non avvenga nell'autoprogrammazione insomma so che molto diciamo della parte su cui si sta studiando è come sostituire i programmatori con l'intelligenza artificiale stessa quindi diciamo la cosiddetta intelligenza artificiale quindi come la macchina si autoprogramma e che come si fa a controllare la macchina che si autoprogramma grazie vediamo altre osservazioni altre domande approfittatene perché non è così semplice avere due interlocutori di questa competenza ecco a partire dalle vostre affermazioni cioè sul fatto che la politica si sia come dire abbia preso una posizione di autoescludersi o di escludersi rispetto al mondo dello sviluppo tecnologico e quant'altro come vedete voi adesso questi queste procedure mi riferisco soprattutto ai protocolli che l'Unione Europea dovrebbe mettere per regolamentare invece tutto questo tipo di struttura dalla cosiddetta intelligenza artificiale grazie grazie quanto sono efficaci secondo voi e chi e come dovrebbero eventualmente emettere delle procedure invece più efficaci grazie grazie ci sono altri osservazioni non capisco no no da remoto neanche prego Maurizio signore io voglio fare una considerazione anche rispetto a stamattina dove il pericolo era più individuato non vi ho detto che passori stamattina in realtà è un allievo di Fabris era dottorato Fabris quindi no era nella sua commissione di dottorato insomma che tra l'altro era su Heidegger pensate un po' c'è un filo che si può tirare che sono vecchio allora adesso mi trovo in dire un sacco di persone bravissime che appunto volevo dire questo che stamattina è un po' sugli aspetti di natura più ambientale oggi vuole meridio mi sembra che siamo più sul cognitivo cioè siamo un campo molto più delicato ancora per certi aspetti il che mi fa dire che mi mette ancora più in difficoltà di stamattina cioè il professor Fabris diceva una cosa che mi ha spaventato quando parlava di identificazione tra il simbolico e l'identitario tra il simulare scusi il simulare e l'identitario identificare e che non può che preoccuparci stiamo preoccupandoci di comunità endogamiche qui stiamo ragionando su un aspetto quasi l'emisfero no allora mi chiedo dove la politica può riassumere ancora qualcosa che ci permetta di stante che ho capito l'etica che anch'io ritengo fondamentale però come diceva stamattina Salarino quasi una preghiera cosa che ha usato il termine omelia ecco la politica è una cosa un pochino più tra di noi seconda cosa la centralità della scuola e dell'educazione qui è essenziale io feci una domanda due anni fa al professor De Martin sul discorso dell'open source perché si parlava allora quando l'era qui mi ricordo mi rispose lascia stare non ci siamo più no adesso volgarizzo no però mi ricordo bene perché ancora di più questa cosa mi preoccupa no cioè quali sono le forze in campo stamattina diceva i ragazzi i giovani sul futuro e sull'ambiente sta ragionando ma sul cognitivo sono altre domande già è densissima non ci sono altre domande faccio una io basta voce sono davvero difficili complicati ma è un po' uno sviluppo di quello che diceva adesso perché abbiamo detto la questione la tecnologia è una questione politica non bisogna basta discutere con i filosofi morali e discutere con la politica anche con loro perché anche con loro questo l'ho capito e loro parla rispondo rispondo rispondono rispondo bene ma c'è un punto che non riesco a ferrare fino in fondo alla fine quali sono le domande che possiamo sensatamente fare ai politici e che possa intervenire questo è il punto che non riesco o come dire oggi pomeriggio non funziona in euro non riesco a mettere a fuoco questo punto qui con chiarezza e questo mi piacerebbe che lo sviscerassimo perché ovviamente anche la nostra funzione questi sono dibattiti interessanti ma noi cerchiamo poi sempre di spingerli perché in qualche modo abbia un impatto nella vita pubblica e anche un impatto su tante cose in un modo o in un altro ce la facciamo ma dinanzi agli interrogativi enormi che sono rimbalzati non riesco a cogliere questo punto e mi piacerebbe che ci sia un passo in avanti e capire che cosa dobbiamo dire adesso mentre tiriamo come dire per la giacca i nostri amici che hanno il coraggio di essere ancora così impegnati nella politica cosa gli diciamo di fare rispetto a tutto ciò che sta accadendo ecco l'ho un po' brutalizzata la domanda ma insomma mi mangiano anche in carne e ossa il pensiero con cui potrei parlare rimasto che cosa che cosa dobbiamo dire a questi che poi sono sempre accusati di non riuscire a fare domande che cosa possono fare che cosa dovrebbero fare dovrebbero fare ecco io darei la parola a Walter riprendere il filo come preferito professore qualcosa parto dalla coda forse si potrebbe dire loro di studiare la storia questo lo dico sempre questa è l'ossessione mia sto recuperando Hegel fino in fondo per cercare di recuperare il senso della storia ovviamente non sono uno storico appunto mi interesso di tecnologia però studiando leggendo un po' di storia della tecnologia il potere politico prima della rivoluzione industriale ha sempre avuto una grande attenzione per lo sviluppo della tecnologia per esempio noi abbiamo questa idea che la tecnologia comincia a svilupparsi in maniera impetuosa con la rivoluzione industriale quindi seconda metà del settecento in Inghilterra e poi in vari altri paesi in realtà la storia della tecnologia è molto più complicata di così grandissimi progressi tecnologici durante il medioevo cosiddetto medioevo e più avvicinandoci però all'evoluzione industriale ci sono delle innovazioni agricole per esempio nell'Inghilterra del seicento che avrebbero che potevano essere messe in campo che però avrebbero minacciato rischiato di lasciare senza lavoro molti braccianti e il potere politico inglese interviene e blocca anche in Francia e blocca perché dice questo sviluppo tecnologico di cui si vedono i veri i chiari benefici da un punto di vista di produttività avrebbero prodotto delle conseguenze sociali indesiderate e quindi la tecnologia viene bloccata e senza che nessuno ancora strelasse all'uddismo e poi magari sul udismo diciamo due parole invece quello che effettivamente capita con la rivoluzione industriale è che l'introduzione di tecnologie in Inghilterra in ambito agricolo e poi in ambito manufatturiero soprattutto in industria del cotone progressivamente quegli interessi hanno un peso politico sempre più forte fino a arrivare a di ottenere che di poter introdurre le tecnologie che ritengono senza ostacoli e l'esperienza del ludismo effettivamente è di rimente perché con il ludismo che è il primo movimento politico su scala di una scala nazionale da parte di persone che dice Hobsbaw in un articolo degli anni 50 non hanno assolutamente nulla contro le macchine in quanto tali quindi l'espressione se qualcuno vi dà del luddista non sta in realtà non sa di cosa non sta parlando e potesse prenderlo persino come un complimento perché in realtà i luddisti non avevano nulla contro le macchine in quanto tali erano contrari al morire di fame quindi nelle loro tattiche negoziali che in un periodo storico in cui non c'erano sindacati non c'era diritto di sciopero non c'era nulla se non l'effettiva esercizio della violenza esercizio della violenza contro gli imprenditori stessi che tipicamente erano locali e attaccati vicini alla fabbrica o contro le macchine loro nella tattica negoziale che hanno davanti scelgono di colpire in genere in maniera mirata determinate macchine perché era l'unica modalità che avevano per poter negoziare ed ottengono le negoziazioni aumentano i salari tra l'altro dopo il luddismo poi il luddismo viene represso con l'esercito inglese mandano 20.000 soldati vengono impiccati un discreto numero però in quel contesto il potere politico in quel caso del nascente classe industriale ottiene che il Parlamento inglese introduca una legge che punisce con la morte chiunque danneggi macchine anche macchine agricole e quindi passiamo da un potere politico ancora nel 600 che dice no questo non viene introdotto perché le conseguenze sociali sarebbero inaccettabili è un potere politico che sancisce con la legge protegge a costo della vita le macchine quindi da questo punto di vista leggere la storia e rendersi conto che le macchine sono appunto prodotti umani che possono venire introdotte se vengono introdotte hanno delle conseguenze e quindi su queste si può ragionare e capire quali sono le conseguenze e quindi decidere se introdurle se non introdurle in che modo introdurle qua si apre tutto un altro filone per esempio sul fatto che le macchine tutte lo smartphone recentemente ho scritto un libro sullo smartphone ma anche quindi la macchina digitale ma in generale tutte le macchine sono in un certo modo ma potrebbero anche essere in un altro modo quindi gli ingegneri possono contribuire al dibattito pubblico facendo presente che una certa macchina potrebbe essere ugualmente produttiva però meno pericolosa meno alienante potrebbe essere tante altre cose c'è tutta una storia anche di operai di lavoratori che hanno suggerito modifiche le macchine in cui lavoravano non per lavorare di meno ma per lavorare magari in maniera meno alienante o meno faticosa mantenendo la produttività quindi su queste cose sulle macchine dovremmo poter ragionare in maniera libera per decidere anche un ragionamento che è etico ma un ragionamento anche politico ampio per decidere appunto cosa come metterli in campo allora da questo punto di vista tornando all'intelligenza artificiale proviamo a provo a riformulare la questione dicendo che ci sono determinate forze sono delle forze economiche estremamente potenti decidono di introdurre queste ma le decidono di introdurle non chiedono permesso a nessuno vogliamo introdurlo lo introduciamo c'ha GPT Sam Altman e così via cosa hanno fatto avevano un prodotto rudimentale lo buttano sul mercato senza porsi la minima problema dal punto di vista di né etico ma neanche banalmente di tutela dei consumatori quando buttano già GPT sul mercato perché vogliono essere i primi e conquistare fasce di mercato non gliene frega niente che lo possano usare dei bambini di 5 anni di 12 non importa nulla non importa nulla del fatto che qualcuno magari con delle preoccupazioni mediche vada a chiedere cosa fare per curarmi e quello sputifuole delle stupidaggini non gliene importa nulla lo fanno perché hanno l'imperativo di occupare il mercato e sanno di poterla fare franca sanno di poterla fare franca perché gli interessi economici che hanno alle spalle hanno un'influenza politica strabordante quindi saturano i media hanno l'appoggio degli Stati Uniti questo inutile nascondersi hanno chiaramente l'appoggio del governo degli Stati Uniti in tutte le sue ramificazioni almeno nella sfera di influenza statunitense e quindi loro se lo possono permettere se qualcun altro una start up di Chivasso o di di aggratebrianza facesse la stessa cosa verrebbe massacrata in un microsecondo perché gli direbbero il codice dei consumatori tirerebbero fuori tutto il codice civile e penale per dire cosa stai facendo invece loro possono allora ai politici il discorso da fare è un po' complicato perché a parte studiare la storia si pone una questione geopolitica quando abbiamo sentito parlare per cinque anni la commissione uscente della baronessa von der Leyen che ha subito scelto la sovranità digitale come una delle sue parole chiave poi di recente un po' meno però quando parlavo di sovranità digitale cinque anni fa è quasi comico ma quasi quale sovranità digitale quindi da questo punto di vista i politici il discorso appunto è complicato perché chiaramente in Europa è evidente che siamo sotto l'ombrello digitale degli Stati Uniti è assolutamente conclamato quindi dovrebbe vedere cosa possono fare al riguardo e poi capire però che anche restando sotto l'ombrello digitale americano nulla impedirebbe in linea di principio all'Europa se avesse una capacità di come dire non dico strategica che quasi un parolone visto i personaggi che abbiamo però una capacità di un minimo di autonomia l'Europa potrebbe avere un po' più di autonomia in questo ambito come in tanti altri quindi il discorso dei politici siamo subito andati su temi estremamente sensibili però direi che potremmo più in generale dire per il digitale come per qualunque altra cosa che la tecnologia dovrebbe essere affrontata come qualunque altro tema e quindi dovrebbe essere oggetto di scrutinio di libertà di discussione e poi in linea di principio astrettamente di una libertà di scelta democratica aggiungo ancora una cosa non rispondo alle domande puntuali perché mi sembra molto difficile farlo sulle ondate mediatiche tenete conto che le ondate mediatiche sono come un faro potentissimo che illumina un certo argomento e ogni volta che abbiamo un faro un fascio di luce che illumina pesantemente qualcosa inevitabilmente vuol dire che sta mettendo in ombra tutto il resto allora da questo punto di vista queste ondate mediatiche abbiamo anche a mio avviso vanno anche interpretate almeno quantomeno poniamoci la domanda se non sono ondate mediatiche che oltre al resto hanno anche la funzione di non parlare di molte altre cose anche proprio specificamente nell'ambito digitale tutti parlano solo e ossessivamente di quello e così tante altre cose potenzialmente importanti invece vengono lasciate in secondo piano domanda sul regolamento perché in realtà quando c'è la parola ACT che è stata adottata dai come dire all'alti livelli della commissione europea ACT quindi prendendo in realtà dalla terminologia americana ACT vuol dire regolamento quindi in realtà non è una direttiva una volta c'erano delle direttive quindi ha proposto ha discusso tutto il processo complicato a livello europeo per l'approvazione dopodiché i parlamenti nazionali dovevano recepirle nella normativa i regolamenti invece vanno direttamente in vigore non c'è più il processo di ricepimento quello sull'intelligenza artificiale è un regolamento quindi entrerà in vigore se l'approveranno definitivamente come pare entrerà in vigore dopo due anni se ben ricordo però entrerà immediatamente senza possibilità di aggiustamenti nazionali quello è per tutti i paesi dell'Unione è efficace il testo definitivo appunto abbiamo una bozza di testo quasi definitivo vedremo esattamente cosa dice però teniamo presente che questo regolamento è stato pesantemente negoziato con gli Stati Uniti non formalmente perché formalmente in teoria non è previsto ma è stato pesantemente influenzato dalle lobby delle grandi aziende americane che spendono enormi quantitativi di denaro per influenzare il processo legislativo europeo a Bruxelles quindi da questo punto di vista io mi aspetto che la versione definitiva quando verrà approvata spero che abbia degli aspetti positivi come la limitazione almeno parziale del riconoscimento facciale in luoghi pubblici e alcuni altri aspetti di questo tipo però se è passato il vaglio degli interessi dei grandi attori americani non mi aspetto che sia particolarmente come dire aggressivo anche perché viene invocato il fatto che volendo avere noi degli attori europei efficaci come quelli americani si è cominciato a fermarsi anche l'Italia si è fatto parte di questa di questa posizione il dire ma così ci autolimitiamo nel rispetto di che cosa ovviamente del nemico dichiarato ufficiale che adesso è la Cina quindi si dice non possiamo regolare queste cose ci stiamo facendo ponendo tutta una serie di questioni etiche democratiche eccetera ma non possiamo permettercele perché c'è il grande nemico nascente con cui dobbiamo confrontarci mi approfitto prima di dare la parola non si sente si sente Maurizio no è un problema ma questo funziona allora volevo dire questo abbiamo nel filo del ragionamento di Quancaro e Martini mi fa piacere dirvi che fra tre giorni iniziamo un ciclo qui sul diritto di non essere digitale penso che sia un po' è provocatorio di non essere digitali è ovviamente una provocazione costruita con molta come dire attenzione è una provocazione che man mano ho sentito attentamente siamo un po' sulle corde del ragionamento che ci ha proposto qui con particolare forza il professor De Martini bene prego sì anche io ringrazio il professor De Martini e mi collego subito a quanto lui diceva con questo richiamo alla storia ma anche alla storia contemporanea anche alla storia di ieri allora fino a qualche mese fa qual era la parola chiave che nel contesto tecnologico ci veniva proposta era la parola metaverso lo ricordate adesso se ne parla sapete vi ricordate in che modo questa parola comunicativamente era stata proposta vi ricordate le paginate sui giornali di pubblicità potrai studiare tu medico potrai operare no tu potrai ecco perché questo perché il signor Zuckerberg era alla ricerca di fondi di finanziamenti di soldi in parte li aveva anche ottenuti e infatti aveva arruolato anzi fatto campagna acquisti presso altre importanti aziende companies di programmatori e sviluppatori eccetera proprio per poter investire in questo business aveva addirittura cambiato il nome della propria azienda che era diventata meta no ecco non è irresistibile la forza di questi tentativi anche dei visionari in maniche di camicia che salgono sul palco e vi presentano l'ultimo prodotto tecnologico non è irresistibile la prova ne sia la prova ne è proprio il fatto che adesso di metaverso non si parla più non perché non ci sia non perché non stiamo continuando lo sviluppo ma perché non è un progetto ritenuto economicamente da realizzare realizzabile in tempi così brevi e infatti Zuckerberg ha licenziato molte di quelle persone che aveva arruolato ma già quando il progetto veniva pubblicizzato lo sapevano non dico tutti sapeva già sicuramente Zuckerberg e lo sapevano tutta una serie di studiosi che avevano scritto anche libri tra l'altro anche tradotti in italiano che il metaverso come sostituzione della realtà di nuovo c'è lo stesso gioco no e come promessa di una realtà migliore io vivo nel mio monolocale che ha come unica faccia una finestra con un muro distante tre metri però mi metto il mio visore le mie cose eccetera eccetera e sono sulle spiagge delle Maldive questa sostituzione della realtà non era possibile almeno in tempi ragionevolmente brevi perché c'era questione di consumo di energia di convergenze tecnologiche di come diceva Juan Carlos sì magari in futuro certamente però adesso non lo era e quindi prometteva qualche cosa di irrealizzabile non è quindi come si può dire inevitabile che noi dobbiamo finire o meglio essere funzionali ad uno sviluppo tecnologico provo a rispondere in breve alle vostre domande ma decisamente in maniera telegrafica allora la signora adesso la prima che ha parlato non c'è più va bene comunque faceva riferimento alla tecnologia che è un prodotto umano sì però ha qualche cosa di più e di diverso cioè ha una sorta di autonomia si tratta di dispositivi che agiscono con un certo grado di autonomia o meglio di indipendenza rispetto anche al loro programma perché perché interagiscono con il loro ambiente questo è l'elemento da tenere presente questo è ciò che fa scattare la questione il problema sia a livello etico sia a livello politico e questo è ciò che viene incontro a quella che è una nostra disposizione nel fine cinquecento insomma primi seicento viveva in Francia un amico di Montaigne che Etienne della Boétie che estremamente giovane meno che ventenne scrisse un discorso intitolato discorso sulla servitù volontaria in cui sottolineava il fatto che gli esseri umani avevano questa disposizione a subordinarsi ad un qualche tipo di potere mi piaceva anche farlo insomma trovavano l'istinto del grege di cui avrebbe parlato qualche un paio di secoli dopo Nietzsche insomma ecco adesso la servitù volontaria non è più un potere politico ma è si vede che le tecnologie si le tecnologie si ribellano nella loro autonomia ecco attenzione alla servitù volontaria perché adesso appunto riguarda questa dimensione quando le parlavi dei cibernetici mi si apriva il cuore perché lei Norbert Wiener il grande genio del ventesimo che è Heidegger a cui pure ho dedicato buona parte della mia vita Norbert Wiener perché nel 1948 pubblica Cybernetics or Controlling Communication in the Animal and the Machine il vero testo fondante geniale che anticipa il futuro che anticipa quello che sarebbe stato dall'MIT poi Wiener prenderà anche le distanze da una serie di conseguenze soprattutto di usi militari della sua invenzione però già il titolo di questo suo progetto di questo suo libro è significativo cioè cibernetica da che cosa viene questa parola? dal greco kubernetes che cosa vuol dire kubernetes latino gubernator no non pensate ai presidenti di regione non c'entra niente il kubernetes è il timoniere quello che guida la nave il nocchiero quello che ha il controllo della nave pur con i venti che possono soffiare anche in maniera sfavorevole e infatti il sottotitolo or control ovvero cibernetica ovvero controllo e comunicazione nell'essere umano o meglio nell'animale e nella macchina cioè cosa fa Wiener qual è la sua genialità identifica in una forma di comunicazione in un modello di comunicazione quello elaborato da Shannon Weaver il modello ingegneristico e matematico un paio di anni prima cioè la trasmissione di dati da un emittente ad un destinatario comunicare come trasmettere dati il vero terreno il vero modello il vero modo secondo cui non soltanto funzionano le macchine funzionano i computer trasmettendo dati ma fanno le macchine cioè mandano dati loro funzionano e fanno esattamente questo ecco da qui la nascita della dimensione informazionale con la nascita dell'informatica e la generalità sta nel dire bene in questo modo funzionano gli esseri viventi gli animali gli esseri umani e le macchine teoria complessiva ma tesi su universalis il sogno di Leibniz realizzato noi oggi viviamo all'interno esattamente di questo di questo discorso la verità se ci sono quali determinati dati di magazzinare eccetera eccetera ecco quello che io segnalavo tra le altre cose è primo abbiamo perso il gusto della verità ce la domandiamo dopo decenni di social di narcisismo delle opinioni se quello che noi diciamo è vero o falso ecco magari recuperiamolo un pochino di questo gusto della verità un amico purtroppo scomparso aveva scritto anche un libro intitolato addio alla verità aveva le sue ragioni ma forse le conseguenze di tutto questo magari da un punto di vista etico potevano anche essere pericolose e seconda cosa cosa si può fare per riprendere il gusto alla verità critica un atteggiamento critico niente di più e niente di meno lei parlava di educazione è questo che dobbiamo effettivamente fare le sue dimissioni di Sam Altman beh forse Juan Carlos se ne sa un pochino un pochino di più io ho letto ho seguito quello che si leggeva sui giornali da una parte veniva considerato Altman come il paladino dei di quelli che volevano fare mettere a disposizione no profit appunto il la c'è GPT ovvero l'intelligenza artificiale generativa però attenzione e dall'altra parte invece no era quello che voleva commercializzarlo e quindi c'è stata la lotta rispetto a questo io vi dico solo una cosa attenzione come ha funzionato negli ultimi anni negli ultimi mesi c'è GPT perché ha avuto questo grande sviluppo e questa grande diffusione appunto è un'altra questione politica appunto perché ha usato la stessa strategia di Zuckerberg con Facebook vale a dire lo ha rilasciato pubblicamente lo ha rilasciato pubblicamente cioè qualche cosa di privato che è stato messo a disposizione pubblicamente con un grosso problema per la democrazia con un grossissimo problema per la democrazia cioè i nostri spazi di dibattito pubblico o di interazione pubblica sono gestiti da privati sono di proprietà di determinate companies non è un problema questo? detto questo che cosa ha fatto il grande Sam Altman e poi siamo anche li consideriamo anche santi questi Steve Jobs no cosa cosa ha fatto ha messo appunto rilasciato a disposizione questa cosa perché perché come funziona c'è il GPT lo dico male poi mi corregge Juan Carlos come funziona funziona collegando connettendo una parola con altre parole simili che normalmente sono collegate in contesti linguistici ben particolari soprattutto nel contesto della lingua inglese che viene ovviamente privilegiato quindi se io dico una serie di frasi ci sono delle parole che sono connesse normalmente questo a partire da quelle che sono le nomi banche dati che ci vengono offerte per comprendere appunto quindi dico qualcosa si possono collegare queste parole solo che queste parole che vengono automaticamente sintatticamente non semanticamente non comprendendo il significato sintatticamente collegate beh a volte nel linguaggio spesso sempre nel linguaggio umano soprattutto nell'uso metaforico delle parole e beh ci possono essere dei collegamenti che sono sbagliati perché il sistema sintattico fraintende questi collegamenti e allora cosa ci vuole ci vuole un intervento umano di controllo di disambiguazione di allenamento si chiama no ci vuole un addestratore chi erano gli addestratori erano avete presente quegli ingegneri indiani quegli informatici indiani che costano poco perché appunto stanno in India eccetera erano questi però qualche cosa costavano allora qual è l'idea geniale facciamo addestrare il sistema dal pubblico di va beh adesso siamo non posso dare giudizi no no facciamola addestrare tanto gli lasciamo una cosa gratuita che arriva fino a un certo punto a due anni fa tanto più o meno che ha determinate limitazioni però intanto lo addestriamo gratis gratis e la gente non ha ancora imparato che quando si dice guarda ti do questo gratis in realtà il prodotto che viene sfruttato poi sei tu va bene questo giusto per raccontare va bene vado vado davvero in fondo della critica ho parlato l'autoprogrammazione chi era che ne parlava a lei mi pare ottimissima questa domanda allora effettivamente ci sono almeno a quanto ne so sistemi di autoprogrammazione di addestramento ad esempio è accaduto che proprio per risparmiare sugli ingegneri e sugli informatici indiani sia stato fatto un addestramento dei programmi di CIGPT proprio attraverso altri programmi di CIGPT come magari utilizzando le banche dati del New York Times tanto che poi il New York Times ha detto no fermi fermi tutti mi dovete pagare se volete utilizzare i miei dati per questa cosa su questo punto veramente bisognerebbe intervenire bisogna intervenire c'è un mio allievo che invece c'è in realtà sia informatico che filosofo che proprio all'interno del progetto FAIR sta sviluppando si chiama Elio Grande così lo nomino anche per la registrazione di Amma Cesare quel che è di Cesare sta sviluppando un modello di interazione a specchio uomo macchina cioè sta addestrando attraverso un programma una macchina a rivolgersi all'essere umano per tutta una serie di input e l'essere umano risponde alla macchina che in qualche modo impara e che a sua volta poi dà un feedback all'essere umano in quanto tale secondo un percorso di a specchio sostanzialmente di incremento progressivo delle competenze e cioè sta modellando una macchina companion non in un rapporto servo padrone dove a volte sembrerebbe che la macchina fosse serva ma Hegel ci insegna che il rapporto servo padrone di solito viene rovesciato ecco questa può essere forse una soluzione e concludo con la politica e concludo con la politica quale domande possiamo porre concretamente alla politica beh la politica già entra in maniera molto forte in queste tematiche l'ha già detto Juan Carlos per quanto riguarda l'Unione Europea von der Leyen eccetera il relatore dell'ultimo passaggio dell'EI Act è stato uno dei relatori è stato Brando Benifei che è un deputato europeo italiano di un partito italiano su questi temi l'Italia il governo italiano in quanto presidente di turno del G7 vuole impostare e ha già organizzato tutta una serie di eventi importanti relativi all'intelligenza artificiale nell'ambito del G7 in realtà non pare pare non ci sia un estremo accordo almeno tra due delle distanze che se ne occupano che se ne dovrebbero occupare all'interno del governo italiano e quindi vedremo poi come va a finire quindi l'attenzione della politica c'è ce n'è forse troppa il problema è in che modo c'è questa attenzione cioè se basta soltanto tenere conto nel migliore dei casi di un approccio secondo codici di un approccio deontologico e nel peggiore dei casi della consapevolezza che l'intelligenza artificiale può essere usata per ottenere determinati risultati anche di controllo e soprattutto di controllo oppure se diciamo un'altra modalità di interfacciarsi con queste problematiche è non solo possibile ma è doverosa per il bene dell'essere umano e della nostra comunità nazionale insieme grazie grazie devo dire sapevo che quando avevamo organizzato un incontro con Carlo De Martini e con i Fabri avremmo avuto un incontro di particolare interesse come vedete l'abbiamo avuto io penso che non meraviglio nessuno di voi se dico che lo metteremo in rete subito perché è talmente importante che è giusto che circoli questa cosa è possibile insomma è talmente tenso di impatto anche sulla immediatezza che facciamo il nostro dovere facendo circolare immediatamente chiudo solo ringraziando di cuore Juan Carlo De Martini e Fabri per lo straordinario contributo che è andato grazie 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 a tutti